Il Cioccolotta di Modica ha fatto la sua comparsa durante le G7 sulle pari opportunità di Taormina. I lavori del Summit hanno preso il via nella giornata di ieri, padrona di casa e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, con delega alle pari opportunità, che ha accolto le delegazioni dei governi di Canada, Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna, salutandole nella loro lingua. I lavori ha partecipato inoltre la Commissaria Europea per la Giustizia, la Tutela dei Consumatori e l'Uguaglianza di Genere, Vera Irova. Si tratta del primo G7 dedicato alle pari opportunità, un'importante occasione per evadire ancora una volta i diritti delle donne. Il Cioccolotta di Modica è diventato in questi anni l'ambasciatore del Gust Made in Sicili, un cioccolato unico al mondo, la cui tecnica di lavorazione a bassa temperatura gli conferisce la caratteristica granulosità. Tutti i ministri, i capi delegazione, nonché i 65 delegati, hanno ricevuto in dono distinte confezioni di baretti di cioccolato di Modica, prodotte dalle imprese del Consorzio. Per l'occasione è stato preparato un cioccolato di Modica utilizzando ingredienti di grande qualità, dalla pasta amara a Ecuador allo zucchero rovagliato di Italia Zuccheri, con incarto dedicato a territori limitate, firmato Enzo Bosco, destinata ai sette grandi, alle loro delegazioni e alle televisioni e testate giornalistiche di Stato. Durante l'evento, inoltre, Grazia Dormiente e Giuseppe Leone hanno offerto in dono al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il loro libro, Modica, la storia del suo cioccolato. La storia del cioccolato è ricostruita attraverso le carte dei primaldi di Modica, le premiate fabbriche di cioccolato, le cioccolatterie e il patrimonio del museo del cioccolato di Modica. Questi temi affrontati nel saggio che racchiude in sé tutta la storia di uno straordinario prodotto. Il cioccolato di Modica, oltre ad essere un piacere e un peccato di Gola, dunque, rappresenta il simbolo di una cultura, che non va dimenticata, ma che deve essere tutelata e preservata, nonché diffusa in tutto il mondo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti